di padre siciliano e madre napoletana vissuta nel quartiere napoletano del Vomero. Dopo i primi passi nella moda, debutta nel 1981 con il film Le Occasioni di Rosa diretto da Salvatore Piscicelli che le fa vincere il Davide di Donatello per la migliore attrice esordiente e il nastro d'argento nella stessa categoria. Il successo popolare arriva però con Sapore di Mare di Carlo Vanzina cui faranno seguito altre commedie come Dio li fa poi gli accoppi accanto a Johnny Dorelli e Sing Sing al fianco di Adriano. Celentano, Cuori nella tormenta, con Carlo Verdone e Lello Arena. È un ragazzo e una ragazza. Con Jerry Calà, affermano definitivamente il personaggio di Marina Suma nel mondo della commedia italiana. Un cambio di registro avviene proprio dopo questi due film quando la Suma torna a recitare in ruoli drammatici come nel musicale Blues Metropolitano, diretto dal suo scopritore Piscicelli. Nel 1987 passa al trile con una donna da scoprire di Riccardo Sesani e con Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, da ricordare poi Sicilian Connection di Tonino Valeri. Malesh, opera prima di Angelo Cannavac, Cuolo e il ritorno alla commedia con Cambiamento d'aria. Di Giuseppe Gargiulo, 1989, Dark Bar di Stelio Fiorenza, 1989, L'ultima scena di Nino Russo, 1989, Infelici e contenti di neri parenti al fianco di Ezio Greggio e Renato Pozzetto, 1992, Fiore di Zucca di Stefano Pomilla, 1998, Deschitur di C. M. Faudan, 2000, Un uomo a perdere di W. Toschi. Nel 1994, a Roma, torna sulle passerelle sfilando per la stilista Chiara Boni. Nel 2003 Arnolfo Petri le affida il ruolo da protagonista in Ierma di Federico Garcia Lorca con Cui vince la niche per il teatro come Migliore attrice protagonista Nel 2003 con Pater Familias Diretto da Francesco Patierno Torna al cinema d'autore Nel 2005 prende parte come concorrente al reality game di Rai 1 Ritorno al presente Condotto da Carlo Conti Nel 2007 recita come protagonista nella fiction Donne assassine In onda su Fox Crime Nel 2008 partecipa alla trasmissione televisiva I migliori anni condotta da Carlo Conti su Rai 1 Nel 2009 in turnie teatrale in 40 città italiane da protagonista con pene d'amor perdute di William Shakespeare per la regia di Stefano Artissunz Nel 2012 Stella di Mare Corto diretto da Salvatore Arimatea su un soggetto di Gabriella Sorti Ambientato nelle isole Eoli e con il coinvolgimento di due attori Down e prodotto dall'associazione Siddarte in collaborazione con l'associazione italiana Persone Down Marina Suma protagonista vince il premio Mare Festival 2012 Nel 2012 è nuovamente in teatro come protagonista Diretta dal regista Luca Nasuto nel dramma storico Nina Scarabattola Incentrato sulle vicende dell'8 settembre del 1943 Collabora con il Salinado Fest Nel 2013 gira il film Io è morto del regista romano Alberto De Venezia Film presentato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti Ritorna al cinema come protagonista nel film Ballando il silenzio di Salvatore Arimatea Uscito nel 2015 grazie alla collaborazione con l'associazione italiana Persone Down e il centro Studi di Odoro Tra gli altri interpreti della pellicola Ambientata nel mondo del tango Vi sono Sandra Milo Fioretta Mari e Mario Pinato Nel settembre 2015 partecipa a Palermo allo spettacolo teatrale In nomine Maris scritto dall'attore e autore palermitano Vito Benicio Zingales Con il quale gira l'omonimo cortometraggio Per la regia di Giuseppe Celesia